Torna il 30 dicembre 2020 il Pigro all'interno degli eventi organizzati dal Comune di Teramo per il Capodanno 2021. Quest'anno sarà di particolare qualità per la presenza di alcuni ospiti. Come l'anno scorso abbiamo confermato la data del 30 per il Pigro. Tantissimi teramani ci chiedevano come mai quest'anno non si fosse svolto. È chiaro che le limitazioni di ottobre non ci hanno permesso di fare l'evento. Abbiamo deciso con la famiglia Graziani di recuperarlo, di non far passare quest'anno senza che i teramani avessero quello che è probabilmente l'evento più amato della città di Teramo e confermiamo quindi la data del 30 come evento in streaming naturalmente con ospiti molto importanti, Morgan, Bruno Risas e tanti altri artisti chiaramente con Filippo Graziani, con Tommy Graziani e la loro band. Sarà un evento che abbiamo deciso di confermare proprio per unire in questo momento di difficoltà i teramani, verrà riprodotto in streaming attraverso le tv locali e attraverso un sito web che verrà appositamente creato. Quindi diamo appuntamento per il 30 di dicembre con questo importantissimo evento che ci unisce come cittadini teramani. Grazie. Grazie. Grazie.